Bene 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 così ragazzi, velocemente, non c'è tantissimo a dire su questa partita, è una partita praticamente tenuta sempre sotto controllo, solo all'ultimo con Quagliarella e quel palo un pochetto di brividi, è pur vero che l'1-0, solo l'1-0 perché poi abbiamo faticato parecchio a fare il secondo, per tutto il periodo dell'1-0 con la Lazio non si sa mai, c'è sempre il rischio, però la Sapetoria non ha mai dato l'impressione insomma di poter ribaltare la partita, quindi partita sotto controllo, un grande Luiz Alberto, un bel gol, ripeto sto ragazzo nella testa ha un vulcano e una pianura di ghiaccio, delle volte veramente troppo esuberante, troppo polemico, troppo su di giri e delle volte c'è una freddezza glaciale che non lo so, in questo caso c'è avuto questa freddezza di saltare il portiere praticamente accaressando il pallone, pettinando il pallone e portandoselo avanti, addirittura tunnel sul difensore, comunque era buona prestazione, anzi si vedeva che era una partita dove si stava esaltando perché poi subito dopo il gol due o tre cavolate l'ha fatte per superficialità e forse perché stava in questo delirio di onnipotenza, però meglio così, meglio che stia in questa condizione piuttosto che la calma piatta dell'ultime settimane. Comunque bene un po' tutti, un po' sottotono immobile, un po' sottotono secondo me non è che mi è piaciuto particolarmente Cataldi, diciamo che non ha giocato male, però rispetto al resto della squadra mi è sembrato un mezzo passo indietro, però ho detto non c'è né da dire né da commentare né da lamentarsi, tre punti che ci servivano, tre punti che sono arrivati e adesso abbiamo messo pressione a chi in questo momento sta dietro, quindi Roma e Fiorentina che comunque qualcuno i punti li dovrà perdere e l'Atalanta. Vediamo alla fine dove arriveremo, però per quello che si è anche intravisto con la partita, almeno io l'ho intravista la partita tra Juventus e Genova, per quello che si è visto in quella partita, insomma penso che a Torino ce la possiamo giocare, stando però concentrati e soprattutto dando una grande mano alla parte difensiva che anche questa sera, in quei passaggetti così si stava mettendo sempre come al solito un po' diciamo in pericolo da sola. Speriamo di evitare questi errori e questi giochetti perché poi la Juve si sa pressa alta e l'errore di Stragoscia, e non solo di Stragoscia, lì dietro ci può sfuggire, quindi concentrati all'obiettivo, ovviamente cercando di evitare le vaccate, quindi se c'è da spazzare spazziamo, comunque adesso testa la Juve e vediamo quello che succederà tra domani e dopodomani con le prossime gare. Ragazzi ripeto, non c'è da dire nient'altro, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, cliccate sulla campanellina per rimanere a giurare su tutti i contenuti, un like adesso prima di abbandonare il video, iscrivetevi anche su Instagram a nostrafamo76, tutto è gratuito, in tutto quanto potete iscrivervi e poi disiscrivervi, quindi seguitemi, vi ringrazio e ora vi vedo oggi con un prossimo video.